per ricordare il 25 aprile vorrei parlare oggi di elio bartolozzi su cui ho scritto un libro intitolato elio l'ultimo dei giusti edito da marsiglio elio è un contadino un giovane contadino che è sempre rimasto fuori dalle commemorazioni della resistenza e ed è un esempio abbastanza importante di come oggi non si possa parlare solo di resistenza ma di resistenze e aveva 20 anni nel 1944 quando si trovò a salvare la vita di due partigiani che avevano fatto un'azione di guerra contro i tedeschi e i fascisti sulle colline di firenze quando venne denunciato e furono i soldati della milizia e i tedeschi che andarono ad arrestarli in casa gli chiesero dove aveva portato dove avesse portato i partigiani che aveva trovato feriti e che in realtà lui aveva portato nella notte a uno degli ospedali partigiani sopra le colline di firenze sapendo assai bene che la sua confessione avrebbe portato i fascisti e i nazisti ad arrestare non soltanto i due partigiani feriti ma anche tutti coloro che erano in questa cascina si rifiutò di dire dove li avesse mai portati e rispose io li ho portati a un crocicchio di quattro cinque strade ma non so esattamente dove sono poi andati venne torturato venne arrestato fu portato a villa triste dove ancora venne torturato e mantenne sempre questa versione dei fatti io sì li ho presi in carico erano feriti ma poi successivamente li ho portati in un posto dove c'erano quattro cinque strade e non so quale di queste abbiano mai preso questa sua esperienza coraggiosa lo portò prima a fossoli dopo essere stato nelle carceri di firenze e poi venne deportato a mauthausen e successivamente a gusen dove ritornò per miracolo dopo diversi mesi di sofferenza in quel lager che era il lager più terribile degli italiani ebbene al suo ritorno nessuno si ricordò di lui e per molti anni questo suo gesto non entrò a far parte del complesso della resistenza e non venne mai ricordato elio bartolozzi come partigiano resistente perché perché non aveva aderito al movimento partigiano si era semplicemente limitato ad aiutare i partigiani che vedeva passare nel suo fondo e non aveva fatto una lotta armata contro i tedeschi e contro i fascisti eppure la sua storia è una storia importante che dimostra come si può resistere al male come si può resistere all'oppressione addirittura alla tortura pur di salvare delle vite ecco perché dicevo all'inizio oggi non si può più parlare di resistenza al singolare ma si può parlare e ricordare tante resistenze quella degli operai quella dei lavoratori civili quella delle donne e quella di persone come elio bartolozzi che rischiarono la loro vita per salvare delle altre vite aggiungo soltanto questo che elio non chiese mai niente per se stesso anche al ritorno dalla prigionia non utilizzò questa sua storia per ottenere dei favori e fino alla fine della sua vita tacque anche e scrisse tutto in un tacquino che venne alla luce subito dopo la sua morte grazie e buon 25 aprile